Solo tre ore di scuola, quindi... Per filmare un progetto della nostra scuola Ha un'aria estremamente professionale Oh mio Dio, oggetti di scena molto... Guarda, c'è rimasto malissimo Si donano quegli occhiali Siamo a scuola La scuola è mia Allora, studenti Buongiorno Oggi è solo tre ore di scuola Quindi la giornata comincia bene E quindi vado E, come al solito, c'è un cielo Assolutamente stupendo Quindi, wow Ciao E quindi a casa prima E quindi cosa siamo andate a fare? Miki Questo è il mio colpo, per chi non la conoscesse, mia cugina, ma se siete abituari dei vlog la conoscete per forza Questa bellissima individua Comunque, siamo andate a fare colazione, barra merenda, barra cose varie, barra cibo In un café con delle nostre amiche Cioè, Mary e Lucia E io In caso non fossero più E adesso siamo a mi casa E stiamo per uscire Per fare cosa? Per filmare un progetto Della nostra scuola Tedesco Tedesco Tedesco? Un progetto in tedesco Per fare un video Un video E io che sono la massima esperta Per quanto riguarda i video Sono stata Chiamata a collaborare Intanto dobbiamo afferrare luci e cose varie Perché È una cosa professionale Dove? Dove? Ok Le luci le tengo Nascoste nell'armadio Ok Ci siamo E qui niente È ora di andare a fare i registi E cioè, Cosè Cosè, fatti vedere Cosè Vieni qui per il tuo pubblico Vieni a farti vedere Ecco, prima è successa una cosa strana Che improvvisamente ci siamo messi a parlare Con l'accento dei nostri Padri, parenti Cioè, nel senso perché Andiamo un po' di Una minima origine sicula Quindi ci siamo messi a parlare A modi mafioso E non riuscivamo più a smettere Di parlare così Vero, Nicole? È vero È vero Io sono il boss mafioso In caso Per chi se lo chiedesse Ok, ci siamo Pronti per andare? Siamo pronti Siamo pronti Bus Disclaimer Sappiamo che non tutti I miei siciliani Sono mafiosi Stavamo scherzando Sono i nostri parenti Cos'è stiamo dicendo Che i nostri parenti Sono i mafiosi? Non è vero? Sì Come in effetti Erano baroni I nostri parenti Baroni Czotero della calea Czotero Era una famiglia Una famiglia Di alto rango I guanti Dobbiamo ad ammazzare qualcuno Mi ricordo che Forse adesso Stiamo esagerando Viva la Sicilia Grande terra Di Lemoni e arance Sto scherzando Oddio Ho un'aria estremamente Professionale Così Con la luce In spalla La telecamera Il trappiede qui Zainetto Sembra un piccolo Povero muro E c'è mi colgo Mi colgo che non mi aiuta Ne a essere Adesso Perché lo sto filmando Puoi aiutarmi Abbiamo anche con noi Un oggetto di scena Che è un oggetto Non identificato Non so neanche come si chiamano Queste cose Un portaolio Anfora Non è un'anfora Assolutamente Noi la chiamiamo anfora Perché di sì È un Un questo Dai Questi cosi Questi cosi Che non so ancora Cosa ci serve Ma lo scopriremo Questa cosa mi preoccupa Abbiamo rotto una lampadina Sì Allora Oh mio dio Oggetti di scena Molto Oddio È rimasto Guarda È rimasto malissimo Alla parete Alla fine Lui ti muore Quella cosa Questo Deci memorizzarlo È tedesco È tedesco Non potete anche Non potete Schlusse Schlussel 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 Sì Ti donano quegli occhiali Sì Chi siete? No È COD Cosa vuol dire? Special operation In card È quella orice Schel Schel Hai fatto? Sì Sì Ok Ok Forse anche se c'è Un po' di una famiglia Dice Schellen Che bella Che bella Di Che bella Ho ho Sto Ho visto che sono Dice Ma e te Non è tutto Non c'è stato Se tu mi metti la camera Più giù il braccio Ragazzi, mi raccomando Perfetto, basta Siamo a scuola Nella mia classe Ma è vuota La scuola è mia Nostra Siamo alla cattedra Posso fare la prof Allora, studenti Divertente Lascio la mia firma sulla lavagna Michi viene a fare la firma sulla lavagna Siamo state qui L'aula è nostra Domani i miei compagni di classe si trovano a questa cosa Mi sto divertendo troppo Divertentissima questa cosa Adesso arriva una bidella, mi sgama e sono guai Siamo a scuola Siamo a scuola Ancora Ancora a scuola Non finisci più questa giornata Sono le 5.20 Dopo siamo ancora a scuola Adesso ci stanno per arrivare a prendere Quindi Hello Ho scoperto soltanto Adesso Quanto sto bene con un fucile in mano Cioè credo che dovrei Dovrei portarlo con me ogni giorno Davvero Veramente Fantastico Dannazione Buonanotte E sogni d'oro È stata una giornata intensa Di molto lavoro Perché gli hanno fatto le riprese Ma stamattina ho potuto stare un po' con le mie mie miei E quindi è stata anche di Divertimento e relax Però soprattutto lavoro Almeno nella seconda parte della giornata Perché sono le 11.40 E sono stata sveglia fino adesso Per fare i compiti E per finire di montare e caricare un vlog E per montare il progetto Quello della scuola Quindi Sono tantino stanchino E perciò buonanotte segni d'oro Grazie per avermi accompagnato Un'altra splendida giornata Della mia vita Ciao Mua Grazie Ciò E Ciò Hidane